Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo alla scoperta dell'album realizzato dalla Topps The Road to UEFA Nations League Finals Eccolo qua, official sticker album, la Nations League La competizione a nazionali che si sta svolgendo in questi giorni Insomma, una sorta, come potremmo chiamarlo, di mini europeo Non so, comunque una sorta di Champions League delle nazioni Possiamo anche dire così Comunque, The Road to UEFA Nations League Finals Questo è l'album realizzato dalla Topps Costa 3 euro Nel retro vediamo tutti i vari raggruppamenti Quindi nella serie A della Nations League giocano queste nazionali Poi c'è la serie B, la serie C e la serie D E' divisa in quattro, diciamo in, appunto ci sono quattro divisioni E dalla D si può salire alla C, dalla C alla B, dalla B all'A Proprio come dalla A si può retrocedere alla B O dalla B si può retrocedere alla C E dalla C si può retrocedere alla D Il tutto in base appunto alle vittorie, ai pareggi Quindi ai punti che fanno le varie nazionali nel corso delle partite, dei gironi E non solo Quindi insomma appunto possiamo definirlo anche un campionato Una sorta di campionato delle nazionali Una sorta di campionato delle nazionali L'album costa 3 euro Qui in copertina vediamo Chiellini, Alland Insomma alcuni dei principali protagonisti Lukaku, Lewandowski, Bruno Fernandes Queste sono le figurine Ecco qua come sono fatte Ecco qua le figurine come sono fatte E queste sono le prime pagine Ecco qua qui c'è l'indice Tanto adesso lo vediamo Gruppo 1, Gruppo 2 con le varie nazionali Gruppo 3 dove c'è la nostra Italia Gruppo 4 Poi qui passiamo alla League B Quindi alla serie B Diciamo così Usiamo questi termini Questi termini qui La serie B E questa invece è la serie C Della UEFA Nations League Ecco qua Questa invece è la serie D Questo è il programma appunto Della UEFA Nations League Eccolo qui I play out appunto Per i play out Sono quelle partite Che servono per determinare Chi resta in serie A Chi resta in serie B O chi retrocede I play out Quindi un po' come appunto Ci sono anche in tanti campionati europei Per esempio in Bundesliga Ci sono i play out Tra chi si gioca la permanenza in Bundesliga E chi la promozione Dalla seconda divisione E quindi vengono fatti anche qui in UEFA Nations League Finale terzo Finale terzo posto Il 18 giugno 2023 Si disputerà Le semifinali il 14 e 15 giugno 2023 E la finale è ancora da decidere Le statistiche della stagione 2020-2021 Capo canoniere Chilien Mbappé Maggior numero di presenze Hugo Olioris Quindi entrambi francesi Maggior numero di cartellini ricevuti Kanté e Pogba Quindi praticamente la Francia Ha stradominato in tutti i sensi La stagione dell'anno scorso Della UEFA Nations League Qui vediamo i portieri Goalkeepers I portieri Sotto ogni figurina ci sono anche le date di nascita E altre informazioni Non è fatto a squadre Come potete ben vedere E io preferisco Gli album fatti a squadre Più che gli album Diciamo Come possiamo definirli Generali Non so in cui ci sono Un punto figurine Che vanno in base A delle categorie Decise dall'editrice stesso In questo caso per esempio Number 6 Per esempio E non in base appunto Alle proprie squadre E o nazionali Di appartenenza Io preferisco Quelli fatti a squadre Quindi L'album delle nazionali Le varie nazioni L'album della serie A Le varie squadre di serie A E via discorrendo Più che quelli appunto Che ho definito così Generali In cui ci sono le categorie Come per esempio Playmaker E poi le varie figurine Quindi in una categoria Troviamo Un giocatore olandese Un giocatore italiano Un giocatore croato Eccetera eccetera Old but gold Però questa è carina Old but gold Insomma un termine Diciamo inglese Ma anche americano Potremmo dire Per definire Anzi più americano Che inglese Per definire appunto Gli anziani Ancora capaci Nella loro professione In questo caso Nel loro sport Quindi i calciatori Un po' in là Con l'età Ma che ancora Riescono a fare La differenza in campo C'era Modric C'era Gieco Tra i tanti Vedete Gieco, Modric Amzic Anche ci hanno messo Poi qui Proseguiamo Ecco qua Vediamo diverse località Varsavia Lisbona Dublino Oslo E qui poi ci sono Le pubblicità Qui ci invita L'album A visitare Il sito della Topse Che è appunto La casa editrice Che ha realizzato Questa raccolta Di figurine Qua una pubblicità Della UEFA Foundation Every child Is a champion Di nuovo Un'altra pubblicità Della UEFA Foundation Qui Ci mostra Il gioco Di card Della UEFA Nations League Perché oltre alle figurine Hanno fatto anche le card Quindi arriverà Quest'estate E qui il Dream Team Lo possiamo creare noi Lo possiamo creare noi Il nostro Dream Team La nostra squadra Dei sogni Qui ci sono altre pagine Quelle conclusive Questa Riguarda Queste due pagine Riguardano appunto La stagione 2020 2021 Della UEFA Nations League Vari simboli Altre quattro figurine Abbiamo Marusic Conoscenza del calcio Italiano Bernardo Silva Hennessy Saville Saville Non lo so Comunque lui E si è concluso Qui l'album Della UEFA Nations League Io vi invito Ad iscrivervi al canale Ragazzi Per non perdervi Questi e tanti Tanti altri video In the box Vi lascio anche i link Alle pagine facebook Instagram E tiktok Del canale Seguitemi anche lì Sempre in the box Trovate il link Al canale Twitch Seguitemi anche lì Sempre in the box Trovate il link Al blog se volete Fateci un salto E noi Come al solito Ci becchiamo Al prossimo video Ciao belli Ciao belli